Lunedì 6 novembre dal Vangelo secondo Luca La parola di oggi non è un invito a non evitare più nessuno a casa delle persone conoscenti o dei nostri amici o dei nostri parenti. Anzi, sappiamo quanto è significativo per il nostro vivere la convivialità e il condividere un pranzo, una cena, la gioia dello stare insieme non semplicemente per nutrirci ma per nutrire la vita, per quello scambio non tanto di informazioni ma di quello che è il nostro vivere quotidiano. Ma la parola di oggi ci invita a vivere ogni giorno la virtù della gratuità. Gesù punta il dito sul fatto che quando noi invitiamo un nostro conoscente, un nostro parente, un nostro amico sicuramente questo poi proverà a sdebitarsi. Tant'è che quanta fatica facciamo ad arrivare ad un invito a mani vuote, senza portare qualcosa, un dolce, una bottiglia di vino, un presente, una pianta fiorita. La fatica di essere totalmente gratuiti e di accogliere la gratuità. Se nella logica umana ciò che conta è sempre il profitto e il guadagno, cioè ciò che io posso ricevere per me, quello che posso guadagnare per me, nella logica del regno dei cieli, l'unico guadagno possibile è quello dell'amore. Ed ecco perché Gesù alla fine dice, no, sarei beato perché non hanno da ricambiarti. Ecco, la questione non è contraccambiare di più o di meno, la questione è se siamo capaci di offrire totalmente amore e di accogliere totalmente amore, senza pensare ad altro profitto o ad altro guadagno. La meta è sempre il compimento, riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. L'unica cosa che sembra essere accumulata e che non svanisce con la morte è proprio l'amore donato e ricevuto. Allora la parola di oggi è un grande annuncio a vivere con gratuità, ad accogliere l'amore come gli altri ce lo vogliono dare e a donarlo a nostra volta, senza guardare a ciò che ne possiamo guadagnare.